forza ragazzi con le sensei routine sempre in progettazione sensei routine perché perché sono le mie routine ideate da me quindi sensei giuseppe routine ragazzi quindi le sensei routine sono per tutti di tutti i livelli per tutte le persone ragazzi ragazze uomini donne mamme papà anziani e anziane donne di tutti i generi quindi ragazzi sempre in progettazione queste routine funzionano è come se funzionano ragazzi guardate guardate ragazzi quindi come dico sempre affidatevi ai professionisti affidatevi ai competenti ragazzi del settore e non ai giarlatani in giro ragazzi non sprecate anni inutilmente ragazzi io ovviamente sono il pioniere di questa disciplina sono stato uno dei primi a importare anzi il primo tra me mi letto altre due persone in italia sono stato il primo a importare il calis enix il corpo libero qui in italia nell'anno 2009 2010 io già mi esibivo nelle strade non esistono né corsi né strutture né niente di niente io mi addestravo io ero venuto dall'america mi addestravo dove mi potevo attaccare nelle fermate dei purma nei pali dei cartelli della segnalatica stradale ci facevo le bandiere le trazioni le facevo in giro eccetera mentre io mi allenavo sempre in giro nei parchi col freddo grandi tempeste eccetera dove non c'era nessuno non c'era un anima riva ok la gente era tutta ammassata nelle palestre lo ricordo proprio ammassati ammassati dentro quattro mura allenarsi io invece sempre all'aria aperta respirando sentendo dato che sono molto sensibile e percependo proprio le le stagioni freddo l'odore della primavera il caldo quando mi allenavo sotto lo schioppo del sole del luna fino alle quattro in piano luglio agosto eccetera nei parchi eccetera dai ragazzi un saluto senza giusta porca 8 chi mi vuole contattare mi contatti prima